e questo stavamo dicendo e questo era vero e quindi noi non potevamo sapere ne ho rendere mai che successiva veramente io stavo in città non l'avevo visto mai intame e se poteva volerziare solo così non è che c'era l'organizzazione ma stiamo è un'apparticazione ma stiamo se non la città erano ho un'apparticazione ma stiamo e questo è un'apparticazione ma stessa e questa è un'apparticazione ma stessa